Iniziamo. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'interno del Grand Hotel delle Terme. Oggi è davvero credo la diretta più emozionante che abbia mai fatto, che abbia fatto da quando sono sindaco della città di Termini Merese. E, come avete visto, ho pubblicato la foto dell'orologio. Ho voluto oggi pubblicare la foto dell'orologio del Grand Hotel delle Terme, che è un orologio fermo da troppi anni e che da troppi anni segna le 6 e 30. Un orologio che è arrivato il momento di fare ripartire e lo dobbiamo fare ripartire tutti insieme. Ricordate il video che io feci qualche anno fa ero stata eletta sindaco da pochissimi giorni, da poco tempo, e ho voluto fare un video entrando all'interno del Grand Hotel delle Terme e ricostruendo la storia, una storia lunga, una storia fatta di una gestione, una storia fatta di un contenzioso lunghissimo con il comune di Termini Merese, tra il comune di Termini Merese e la società che lo gestiva. Una storia lunga oltre 30 anni. In quel video io dissi una frase, la ricordo, conclusi così il video, e dissi le Terme sono di Termini Merese e faremo di tutto, di tutto per renderle nuovamente fruibili e restituirle così ai cittadini. Ebbene oggi siamo all'interno del Grand Hotel delle Terme, 12 giugno 2024, una data che io personalmente non dimenticherò mai, una data storica. Siamo felici ed orgogliosi e sono davvero emozionata ed è una felicità che riesco a descrivere davvero a malapena. Questa è una giornata storica per la nostra città, per ciascuno di noi, per me che sono il sindaco e che mi onoro di essere il sindaco della città di Termini Merese ed è una giornata storica per tutti i 25.000 abitanti della nostra città. Io e Lorenzo Forello, amministratore unico della Solfin S.P.A. e gestore del Grand Hotel delle Terme, fino all'anno 2019 abbiamo raggiunto un'intesa. Abbiamo raggiunto un'intesa volta a mettere una pietra tombale sulla vicenda triste del pignoramento del Grande Albergo delle Terme e delle vecchie terme, quindi di tutto il complesso termale. Un pignoramento che, come ricorderete, è iniziato nel luglio del 2020. Io non ero ancora sindaco, la mia amministrazione non era ancora nata e il Grand Hotel delle Terme e le vecchie terme erano state pignorate, sono state pignorate proprio nel luglio del 2020, prima che ci insediassimo. È passato del tempo, sono passati degli anni e il pignoramento all'epoca, è bene che i cittadini di Termini Merese lo sappiano. È iniziato perché il Consiglio Comunale dell'epoca aveva votato e aveva votato, aveva deciso di rendere il Grand Hotel delle Terme un bene vendibile, un bene alienabile. Per questo motivo il Grande Albergo delle Terme è stato pignorato. In questi anni non ci siamo mai fermati, abbiamo lavorato sodo, abbiamo lavorato duramente, abbiamo lavorato in silenzio e lo abbiamo fatto perché volevamo intensamente portare, riportare a casa il Grand Hotel delle Terme e il complesso termale nella sua interessa. ci siamo riusciti. Abbiamo potenziato negli anni l'attività difensiva, ve lo abbiamo detto, abbiamo potenziato l'attività difensiva e abbiamo accompagnato all'attività difensiva un'azione amministrativa forte. Abbiamo fatto un'azione amministrativa forte, per la prima volta la giunta della città di Termini Merese, che mi onoro di rappresentare, ha dichiarato il complesso termale, quindi il Grand Hotel delle Terme e le vecchie Terme, bene appartenente al demanio culturale, non era mai avvenuto nel corso dei 30 anni. Questo che cosa significa? Significa che una volta liberato il Grand Hotel delle Terme non potrà mai più essere pignorato da nessuno. E questo grazie ai nostri consiglieri comunali, grazie alla mia squadra, grazie ai consiglieri comunali di maggioranza che hanno votato il provvedimento dell'epoca, decidendo che il nostro Grand Hotel delle Terme e le vecchie Terme dovessero rientrare tra i beni del patrimonio indisponibile della città di Termini Merese, proprio perché beni appartenenti al demanio culturale. Hanno votato con coraggio, seguendo con coraggio le decisioni della giunta di questa città. In questi anni poi abbiamo sempre mediato, non abbiamo mai abbandonato la via del dialogo con il gestore, con l'ex gestore del Grand Albergo delle Terme. E ci siamo incontrati, ci siamo incontrati sempre più serratamente, sempre più frequentemente negli ultimi giorni, perché eravamo decisi a portare a casa il risultato. La rinuncia di Lorenzo Forello al pignoramento rappresenta, questo lo voglio sottolineare, un atto spontaneo di Lorenzo Forello, arrivato al termine di lunghi incontri, arrivati al termine veramente di una lunga trattativa. Ci siamo parlati, ci siamo guardati negli occhi. Ci è stata riconosciuta da parte di Lorenzo Forello una grande determinazione, ma anche una grandissima serietà. Una serietà che dopo tanti anni ha convinto Lorenzo Forello a sedersi nuovamente al tavolo con il sindaco della città di Termini Merese, a dialogare con la città, ascoltando le nostre ragioni, comprendendole e decidendo in maniera assolutamente spontanea di liberare il simbolo della nostra città, il Grande Albergo delle Terme e le vecchie Terme, consentendo quindi alla città di rientrare da subito in possesso del Grande Albergo delle Terme e di tutto il complesso termale. E di questo voglio ringraziare pubblicamente Lorenzo Forello. L'ho già fatto, l'ho già fatto, l'ho già fatto alle tante riunioni che ci hanno visto protagonisti e lo voglio fare qui oggi come sindaco della città di Termini Merese. La rinuncia di Lorenzo Forello e quindi della Solfine S.P.A. sarà formalmente ufficializzata all'udienza, alla prossima udienza del 20 giugno. Dovete sapere che il 20 giugno si terrà e si sarebbe tenuta l'udienza del giudice dell'esecuzione. Il Grande Hotel delle Terme rischiava la vendita all'asta. Un rischio concreto, un rischio che il giudice nell'ultima ordinanza di febbraio del 2024, aveva messo assolutamente nero su bianco, invitando le parti a trovare una intesa, invitando le parti a mediare, ad incontrarsi in un punto comune che potesse mettere fine a questa vicenda, vicenda davvero triste della nostra città durata troppi anni. Ed è quello che abbiamo fatto. Ci siamo incontrati, ci siamo parlati, ci siamo compresi e abbiamo compreso che il bene della città doveva prevalere su tutto. Il fattore umano ha prevalso sugli interessi. È chiaro che il Grande Hotel delle Terme e le vecchie Terme non riapriranno domani mattina. Adesso comincia la partita più importante che è quella della gestione, l'amministrazione comunale da domani mattina e quindi da quando il bene, Lorenzo Forello all'udienza del 20 giugno rinuncerà formalmente, ufficialmente al pignoramento sull'intero complesso immobiliare e dovrà dall'indomani iniziare a lavorare per mettere a bando il bene, per costruire un bando, per costruire un bando importante che miri alla valorizzazione di tutto il complesso termale e che punti a una nuova gestione, a una nuova grande gestione, quello che merita la città di Termini Merese. Da domani mattina si gioca anche un'altra partita che è quella di riottenere la concessione delle acque termali dalla regione. Le acque termali, questo lo ricordiamo a tutti, quelle della città di Termini Merese dove sono delle acque termali assolutamente uniche, acque salsobromiodiche che escono a 43 gradi naturalmente, esistono solo in due posti, Termini Merese e salso maggiore. Dobbiamo approfittarne il tempo di rivivere per il Grande Hotel delle Terme adesso con questa squadra che lo ha voluto fortemente a casa, squadra che davvero mi onoro di rappresentare, squadra che voglio ringraziare ed è per questo motivo che io ringrazio i miei assessori che mi accompagnano quotidianamente e non è facile, vi assicuro. Voglio ringraziare i miei consiglieri comunali che non mi hanno lasciata sola un attimo e che hanno votato con coraggio l'atto che ha posto, nonostante ci fosse un pignoramento in corso. Il Grande Hotel delle Terme è tra i beni non più alienabili, tra i beni non più vendibili e non più disponibili. Voglio ringraziare chi mi affianca ogni giorno, il segretario generale di questa città, il miglior segretario generale che la città di Termini Merese abbia mai avuto e che ha preso a cuore tutte le vicende della città di Termini Merese, le segue veramente con il cuore, con grande determinazione, sta seguendo il Grande Hotel delle Terme da vicino e come mai prima d'ora, ve lo assicuro, io sono stato un consigliere di opposizione, so come si svolgevano prima le tantissime riunioni e so adesso quanta passione, quanta determinazione ci sia stata per portare a casa il risultato. Non era scontato, non lo era assolutamente, anzi fino a un mese fa io vi dico per me era diventato quasi impossibile, ogni sera prima dell'udienza del giudice dell'esecuzione ho faticato a prendere sonno perché il pericolo della vendita all'asta era sempre più concreto. Ma sognare traguardi è facile, perseguirli con fatica, con tenacia, con coraggio, con determinazione fa sì che poi i sogni si possano davvero realizzare e quindi il Grande Hotel delle Terme torna a casa adesso torna a casa con noi, torna a casa con questo sindaco, torna a casa con questa amministrazione comunale che lo ha fortemente voluto a casa, torna a casa grazie alla disponibilità di Lorenzo Forello. Domani, da domani saremo pronti alla prossima sfida che è quella della valorizzazione, che è quella della gestione, che è quella della restituzione all'intera comunità e a beneficio dello sviluppo turistico della città di Termini Merese. Questo era quello che mi è stato richiesto dai cittadini di Termini Merese, tutelare il Grande Hotel delle Terme, riportarlo a casa e questo è stato fatto, è stato fatto con serietà, ripeto, lavorando in silenzio a testa bassa giorno e notte con tutte le persone che mi hanno affiancato. Vedete, la storia del Grande Hotel delle Terme dura circa 35 anni, quando inizia la storia del Grande Hotel delle Terme io avevo, la triste storia, la triste vicenda del Grande Hotel delle Terme io avevo appena 4 anni, non avrei mai immaginato e forse avevo perso sbagliando le speranze che sarei stata io il sindaco, che ad appena 38 anni e grazie a una squadra straordinaria che mi affianca avrebbe riportato a casa il Grande Hotel delle Terme e che adesso si prepara veramente a metterlo a regime. Questo dobbiamo fare, la battaglia adesso si sposta su un altro campo, su un altro terreno che richiede in campo la migliore squadra possibile, grande determinazione, grande capacità, grande onestà, grande coraggio. Grazie, grazie a voi che mi avete sempre sostenuto, mi avete sempre spronata ad andare avanti, a non mollare mai, a crederci fino alla fine, sono onorata di essere il vostro sindaco, grazie a Lorenzo Forello, alla Solfin SPA per aver rinunciato spontaneamente, per avermi guardato negli occhi e aver capito quanto la città avesse bisogno del suo simbolo a casa e del Grande Hotel delle Terme a casa, grazie a tutti coloro che continueranno a starci vicini, a sostenerci e che insieme a noi porteranno avanti la sfida grandissima, la più grande e importante della città di Termini Merese, che la città di Termini Merese possa veramente vivere, soprattutto in questo momento, di difficoltà. e ce la faremo, sono, scusatemi, sono veramente, veramente emozionata, sto leggendo i vostri commenti, non è facile seguire la diretta e leggervi, qui con me, qui con me, però lo voglio dire, adesso ci sciogliamo un po', diciamo dopo il momento critico, qui con me ci sono i consiglieri comunali, il Presidente del Consiglio Comunale, i miei assessori, i miei assessori, vedo Pippo Preti, il grande Pippo Preti, il grande Gaetano Castellana, Nicola Cascino, Maria Concetta Buttà, vedo tutti i miei assessori, il Presidente del Consiglio Comunale, i consiglieri comunali di maggioranza, che io voglio ringraziare, Giuseppe Cumbo, Giuseppe Di Maio, li guardo per evitare di dimenticarli, Rosanna Arrigo, Enrico Corpora, che non è potuto essere presente, in questo momento è fuori, Rosanna Arrigo Corpora, Carmelo Militello, Claudio Merlino, chi sto dimenticando, ragazzi, Pippo già l'ho detto, tra gli assessori l'ho menzionato, grazie, grazie veramente a tutti, grazie ai miei consiglieri comunali, ho dimenticato qualche consigliere comunale, Ciccio Paolo D'Angelo, che non lo vedo, ecco perché mi sfugge, Carmelo Militello, l'ho detto, insomma a tutti i consiglieri di maggioranza, il Segretario Generale della nostra città, grazie ai ragazzi, ragazzi delle vie dei tesori, che oggi sono con me, all'interno del Grand Hotel delle Terme, l'applauso è, e va a loro, va a loro, che hanno aperto il Grand Hotel delle Terme, in un periodo, nel periodo in cui era pignorato, e ha fatto oltre, hanno accolto oltre 6.000 visitatori in tre weekend, giovani straordinari, sui quali puntiamo quotidianamente, vedo Fabio Lobono, che è qua, il responsabile dell'ufficio turismo, insomma ci siamo tutti, ci siamo tutti, io spero di non avere dimenticato nessuno, ma sono veramente, veramente tanto emozionata, e facciamo così, lì, eccoci qua, vediamo se riesco a farveli vedere tutti, così evito di dimenticarmi qualcuno, Roberto Tedesco, eccolo, l'architetto tedesco, architetto tedesco, che dovete sapere, seguirà i lavori di riqualificazione di piazza Terme, qua c'è il consigliere Cumbo, eccolo qua, Totò Scaccia, Tele Termini, ringraziamo che ci sta seguendo in diretta, lavori di riqualificazione di piazza Terme, che partiranno a brevissimo, dopo l'approvazione del bilancio comunale, riqualificheremo anche piazza delle Terme, e che dire, e che dire, facciamo rivivere questa città, il tempo di rivivere è adesso e oggi per il Grand Hotel delle Terme, il tempo di rivivere con questa squadra, che lo ha portato finalmente a casa. Buon pomeriggio a tutti e buona serata, viva Termini Merese, viva il Grand Hotel delle Terme, grazie, grazie a tutti. Ehi, grazie!